Mi piace definirla l'edizione del sorriso, perché finalmente siamo senza mascherine, questa edizione quindi è libera da prescrizioni particolari, ci è rimasto il buon senso, si riesce quindi a stare insieme dopo tanto tempo, ha avuto successo nelle iscrizioni, perché ci sono 45 barche che hanno particolare pregio, hanno una qualità molto alta, una location che è meravigliosa perché è finito il museo navale, è finito anche l'altra ala, si è aperto il planetario, quindi in uno scenario incantevole dove si può regattare in mare molto bene, anche con delle novità, le boe sono boe che si regolano in maniera da remoto, in modo che rimangono stabili nello stesso posto con le loro elichette, quindi un qualcosa di green, ci sono le bici elettriche, ci sono i monopattini elettrici, ci sono degli stand che fanno vedere la storia della città d'Imperia, la storia delle vele d'epoca, fanno vedere come questo territorio sia un territorio incantevole con un buon clima, con un buon mare, ma soprattutto con una grande accoglienza.